il pane maledetto il vecchio tile aveva tre figlie la maggiore era anne di cui famiglia nessuno parlava la seconda era rose che aveva adesso diciotto anni e claire era la minore ancora una ragazzina che aveva compiuto da poco i quindici anni ormai vedovo il vecchio tile era capo meccanico nella fabbrica di bottoni del signor le brumaine era una brava persona stimata da tutti molto onesta e sobria un operaio modello abitava alle havre il rue de l'anguilhomme quando anne era fuggita di casa il vecchio adilatissimo minacciò ad uccidere il seduttore un giovanotto che si dava a tante arie caporeparto in un gran magazzino di mode della città poi avendo sentito dire da varie parti che la figlioletta s'era sistemata bene comperava buoni del tesoro e non batteva al marzapiede ma ora viveva col signor Dubois un uomo anziano giudice del tribunale di commercio s'era messo il cuore in pace anzi si interessava di quanto faceva la figlia chiedeva notizie sulla casa di lei a vecchi amici che erano andati a farle visita e quando gli dicevano che i mobili erano tutti suoi vasi colorati sui caminetti quadri alle pareti orologi dorati e tappeti ovunque sulle sue labbra compariva un sorrisetto soddisfatto erano trent'anni che lui lavorava per mettere da parte cinque o sei miserabili migliaia di franchi tutto sommato la ragazzina non era stata una stupida ed ecco che una mattina il giovane touchard figlio del bottaio in fondo alla strada venne a domandargli la mano di rose la seconda il vecchio si sentì battere il cuore dalla gioia i touchard erano ricchi e perbene aveva proprio fortuna con le figlie il matrimonio venne fissato e fu deciso anche che ci sarebbe stato un vero banchetto da fare al ristorante di mamma giusa a sant'adresse sarebbe costato ma per una volta poteva anche permetterselo ed ecco che una mattina dopo il ritorno del vecchio a casa per il pranzo nel momento in cui si stava mettendo a tavola insieme alle due figlie la porta si spalancò e fece la sua comparsa Anna aveva un vestito meraviglioso gioielli e un cappello guarnito di piume era splendida così agghindata saltò al collo del padre che non ebbe nemmeno il tempo di dire ah poi si strinse piangendo alle braccia delle sorelle e infine si sedette asciugandosi gli occhi e domandò un piatto per mangiare la minestra con la sua famiglia questo fatto commosse fino alle lacrime persino Mastro Tile brava piccina brava brava non faceva che ripetere allora lei lanciò subito la sua proposta non voleva che il pranzo nuziale si facesse a sant'adresse non voleva proprio doveva essere fatto tutto a casa sua al babbo così non sarebbe costato un centesimo aveva già disposto e sistemato tutto insomma si incaricava lei d'ogni cosa il vecchio ripeteva brava piccina brava ma vi venne uno scrupolo i douchard avrebbero accettato la fidanzata Rose domandò sorpresa perché dovrebbero essere contrari lascia fare a me ne parlo subito con Philippe quel giorno stesso parlò col fidanzato e Philippe disse che era pienamente d'accordo anche i touchard padre e madre furono felici che ci fosse un bel pranzo gratis dicevano sarà una cosa di primo ordine visto che il signor Dubois ha un sacco di quattrini fu stabilito che il matrimonio sarebbe avvenuto l'ultimo martedì del mese dopo le formalità in municipio e la funzione in chiesa il corteo nuziale si diresse verso la casa di Anne i tail avevano invitato un cugino di una certa età il signor Sovantin un uomo che amava filosofeggiare cerimonioso e compassato da cui speravano di ereditare e una vecchia zia la signora Lamondois il signor Sovantin era stato scelto per fare coppia con Anne e darle il braccio erano le due persone più distinte e più importanti della compagnia appena furono davanti al portone Anne lasciò il braccio del suo cavaliere e corse avanti dicendo vi faccio strada salì di corsa alle scale mentre il corteo degli invitati la seguiva più lentamente appena la giovane donna ebbe aperta la porta si mise di fianco per lasciar passare gli altri che le sfilarono davanti spalancando gli occhi e girando il capo da ogni parte per ammirare quel lusso di origini misteriose la tavola era stata apparecchiata nel salone in quanto la sala da pranzo era parsa troppo piccola piatti e posate erano stati presi in affitto da un ristorante delle vicinanze le caraffe colme di vino splendevano nel raggio di sole che arrivava da una finestra le signore entrarono nella camera da letto per toglierci gli sciagli e i cappelli mentre Tushar padre in piedi davanti alla porta faceva l'occhietto agli altri uomini indicando il largo letto basso con cenni scherzosi e bonari Mastro Dyle e indignitoso atteggiamento guardava con soddisfazione appena celata il lussuoso arredamento della figlia andando da una stanza all'altra sempre col cappello in mano camminava come un sacrestano in chiesa e con lo sguardo faceva un inventario della mobilia Anna correva di qua e di là dava ordini a destra e a sinistra sollecitando l'inizio del pranzo finalmente apparve sulla soglia da pranzo svuotata dai mobili e gridò venite un momento tutti qui i dodici invitati si precipitarono e videro dodici bicchierini pieni di madera messi tutti in giro su un tavolino rotondo Rose e suo marito si tenevano strette alla vita e già andavano negli angolini bui per baciarsi il signor sovventen teneva gli occhi addosso ad Anna di certo sollecitato da quell'ardore da quel senso di attesa che turba tutti i maschi perfino vecchi e brutti che vengono a trovarsi in stretto contatto con le donnine galanti come se queste dovessero per abitudine di mestiere e per dovere professionale concedere a ogni uomo una parte di se stesse si sedettero a tavola e il pranzo ebbe inizio i parenti stavano da una parte, i giovani dall'altra la signora Touchard era a capotavola, a destra la spucina a sinistra Anna curava tutto e tutti attenta che i bicchieri fossero sempre colmi e i piatti sempre pieni una certa soggezione rispettosa una certa timidezza davanti all'opulenza della casa e alla solennità del servizio sembravano paralizzare gli invitati il cibo era buono e abbondante ma nessuno scherzava come si è soliti fare nei banchetti di nozze l'atmosfera lussuosa metteva tutti in imbarazzo la signora Touchard madre, a cui piaceva essere allegra cercò inutilmente di vivacizzare la riunione e quando furono al dolce esclamò via Philippe, cantaci qualche cosa nel quartiere suo figlio era ritenuto una delle più belle voci naturali della città lo sposo si alzò subito in piedi sorrise e rivolto alla cognata per cortesia e per galanteria cercò qualche cosa che fosse appropriata alla circostanza abbastanza seria come quel pranzo ufficiale di nozze tutta contenta Anna si appoggiò alla spalliera della sedia per ascoltarlo meglio i volti di tutti si fecero attenti e atteggiati al sorriso il cantore annunciò il pane maledetto e piegando il braccio così tanto che la giacca gli salì sul collo cominciò è un pane benedetto che dobbiamo strappare a lavare a terra con un braccio vittorioso è il pane del lavoro quello che l'uomo onesto porta ogni sera i figli con gran letizia ma esiste un altro pane d'aspetto tentatore un pane maledetto creato nell'inferno per nostra dannazione figli non lo toccate quello è il pane del vizio cari figli guardatevi dal toccare quel pane tutta la tavolata applaudì freneticamente tu sciar padre sentenziò proprio la romanza adatta la cuoca invitata anche lei a tavola rigirava tra le mani un dolcetto osservandolo con tenerezza il signor Sovantin mormorò benissimo e la zia Lamondois già si sciucava gli occhi col tovagliolo lo sposino annunciò seconda strofa e cantò con foga sempre maggiore rispetto al disgraziato che oppresso dall'età ci supplica seduto sull'orlo della strada ma condannino quello che lasciando il lavoro sano e ben portante osa tender la mano mendicare senza bisogno è rubare ai vecchi rubare all'operaio stroncato di fatica vergogna per chi vive di pane di pigrizia cari figli guardatevi dal toccare quel pane a questo punto tutti anche i due camerieri rimasti in piedi appoggiati alla parete urlarono in coro il ritornello le acute voci in falsetto delle donne facevano stonare quelle basse degli uomini la zia e la sposina piangevano spudoratamente ma strotai si soffiava il naso come un trombone e tu sciarpadre inebriato dava il tempo con un filone di pane fino alla metà della tavola la cuoca amica di famiglia faceva gocciolare lacrime silenziose sul suo dolcetto che seguitava a spezzettare nella commozione generale il signor Soventin sentenziò queste sì che sono parole sante altro che barzellette anche Anne era commossa e mandava baci alla sorella indicandole lo sposo quasi volesse congratularsi con lei il giovanotto al settimo cielo per il successo ottenuto seguitò e la semplice cameretta tu dolce operaia sembri ascoltare la voce del demonio povera donna credimi non lasciare il tuo ago babbo e mamma non anche te te sola consolazione loro nell'equivoco lusso che attrattive troverai quando maledicendoti tuo padre espirerà il pan del disonore è impastato di lacrime cari figli guardatevi dal toccare quel pane soltanto i due camerieri e tu char padre ripresero il ritornello pallidissima Anne aveva abbassato gli occhi lo spogino si guardava attorno sbigottito senza riuscire a comprendere il motivo di quel zelo improvviso ma poca aveva lasciato cadere il dolcetto come se fosse stato avvelenato per salvare la situazione il signor Sovantin disse serio serio e l'ultimissima strofetta si può fare a meno ma sto tal paonazzo come un tacchino lanciava in giro occhiatazze inferocite Anne aveva gli occhi colmi di lacrime e fu con voce di pianto che disse ai camerieri portatelo spumante invitati furono immediatamente ripresi dalla contentezza tutte le facce tornarono a sorridere tu char padre che non aveva né visto né udito né compreso non bel niente seguitava a marcare il tempo col filone di pane e continuava a canticchiare mostrandolo agli invitati cari figli guardatevi dal toccare quel pane tutto il gruppo allora elettrizzato alla vista delle bottiglie col collo foderato di carta color argento ripetè col fragore d'un tuono cari figli guardatevi dal toccare quel pane che guardatevi